Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altra review a tema Footbird Day, ci ho messo un po' di tempo per elaborarla perché ho voluto provare fino a un fondo il giocatore in questione, ovvero Cristiano Ronaldo Footbird Day. In particolare io venivo dal Toti, quindi veramente ho fatto un bel check rispetto alla sua versione più quotata uscita qualche mese fa. Ora posso darvi tutta una serie di giudizi, vi faccio vedere anche delle clip in game e poi andiamo a fare un bel recappone di confronto tra le due versioni, quindi mettetevi comodi e godetevi questa review. La prima cosa che vi voglio far vedere di questo Ronaldo sono i movimenti, perché guardate qua dopo questa skill quanto si era allungato la palla. È vero che sono stato falciato, però non è un bene. Qui con il destro fa partire un bel tiro anche senza timed, quindi con il destro si rivela ancora il solito finalizzatore implacabile, però vedete qui questo doppio speed boost un po' trattenuto con il tiro di sinistro che non è così esplosivo come ci aspetterebbe. Bello qui il tuffo di testa per insaccare, qui nello stretto ottimo il movimento di tacco-tacco per portare palla sul sinistro, ovviamente lo fa molto molto bene, però vedete qui com'è limitato, non prende velocità. Guardate qui com'era davanti al difensore e si fa tagliare due volte senza riuscire a lasciarselo alle spalle. Qui nuovamente palla col sinistro buttata dentro da due metri con questo movimento a prendere campo, tiro a giro anche di questa versione che si rivela veramente molto molto buono. Guardate qui che bel tiro che si fa insaccare con il timed verde. Quello che poi vi volevo far notare però sono i movimenti, perché guardate qui con la sola levetta analogica come fa fatica, com'è macchinoso, com'è ampio nei movimenti, non tiene mai la palla attaccata vicino al piede. L'avversario non era un fenomeno, altrimenti avrei sicuramente perso il pallone. Qui col sinistro invece molto 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 solido nelle sue conclusioni. Però alle volte capita che sottoporta combina delle cose del genere. Mi ha dato meno sicurezza rispetto al Toti quando c'era da buttarla dentro in alcune situazioni. Quindi dopo averlo testato, il buon Ronaldo Foot Birthday, arriviamo al momento in cui facciamo un bel confronto statistica per statistica, rendimento per rendimento con il Toti. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la versione base, no, di quelle che sono le statistiche che troviamo su una carta, ovviamente tutto quanto uguale, se non per il 5 di piede debole, che è una novità assoluta, perché di Ronaldo con il 5 di piede debole a un certo punto del gioco come questo, dove ci sono ancora tornei competitivi, eccetera, eccetera, non era mai uscito. È vero, era uscito quello l'anno scorso d'estate, ma insomma il gioco si apprestava veramente verso il suo epilogo. Allora, per quanto riguarda questo aumento, devo dirvi la verità, si è visto che comunque con il sinistro probabilmente è molto più solido rispetto alla versione Toti, anche se comunque Ronaldo è un giocatore che durante gli anni ha sempre avuto quel 4 di piede debole che però poi rendeva sempre come un 4,5, mai come un 5, ma neanche come un 4, era molto forte anche di sinistro, infatti ci si chiedeva come mai non ricevesse mai una versione col 5 di piede debole. Eccola qua, questo effettivamente è un po' più continuo quando va a calciare con il suo piede debole, però comunque si tratta di due piedi sinistri di assoluto livello. Per quanto riguarda invece le statistiche, ovviamente la cosa che subito ci salta all'occhio è il decremento di velocità, perché qui passiamo da un 91 di accelerazione che è uguale per entrambi, ma mentre il Toti ha 94 di velocità scatto, questo ha 89, che sembrerà poco, ma in realtà è veramente tanto, perché se voi andate a valutare poi quello che è il rendimento della carta, come vi ho fatto vedere, in game fa veramente una fatica incredibile a prendere velocità e a lasciare dietro i propri avversari. Sembra un po' il base sotto questo punto di vista Ronaldo Futbord, fa proprio veramente tanta tanta difficoltà sotto il profilo dello scatto, anche con lo speed boost avete visto come non è che ce l'abbia così tanto esplosivo, ed è quello che era stato criticato anche un po' al Toti, che comunque era più veloce, quindi ci si aspettava magari che lì ci andasse a fare un ulteriore salto di qualità, invece sono tornati indietro per favorire proprio quel 5 di piede debole come unica grossissima novità della carta. Per quanto riguarda le statistiche d'attacco, ovviamente anche qui sono di primo ordine per quanto riguarda il tiro, finalizzazione e potenza tiro calano solo di 2 e 3 punti rispetto alla versione Toti, però quello che io ho riscontrato in game, e l'avete visto anche voi, è una minore costanza nella finalizzazione, questo cosa vuol dire che spesso e volentieri arrivava a sbagliare anche dei gol abbastanza facili, che il Toti invece raramente buttava fuori, è vero che comunque io vi dico sempre l'attaccante perfetto non esiste, qualsiasi attaccante voi andrete a prendere da Ronaldo Moments a Mbappe e Toti a Pelé Moments, se quel tiro il gioco decide che non deve entrare in porta, state tranquilli che quel tiro non entrerà. Quindi questo è un grosso problema di programmazione, però la carta lì può farci abbastanza poco, però quello che vi dico è che su tiri anche abbastanza normali ho avuto meno sicurezza nelle conclusioni rispetto a quanto accade con il Toti. Per quanto riguarda poi i passaggi sono pressoché uguali, il Toti ha giusto un più uno di passaggio lungo che insomma lascia il tempo che trova, ma veniamo alle statistiche di dribbling che sono molto interessanti, perché sebbene l'agilità sia praticamente uguale, l'equilibrio era una cosa che mi interessava tantissimo, perché passare da 80 a 84 di equilibrio non è una roba da poco. Tuttavia non mi è sembrato che questo aumento di equilibrio effettivamente si traducesse in game in una maggiore stabilità di questo Ronaldo. Ha un po' gli stessi problemi che sono portati dal body type, ecco, questo qui potrebbe avere anche 99, ma comunque essendo un giocatore di 1,87 con un certo tipo di baricentro, quando gli entrano gli avversari in un certo modo lo destabilizzano e la palla la riescono a recuperare. Reattività uguale, controllo palla, che onestamente adesso vi vado a commentare questi quattro punti di controllo palla in meno, anche combinati al discorso forza, perché è proprio lì che si va a snodare un altro elemento fondamentale di differenza tra le due carte. Perché? Sebbene questo Ronaldo abbia 82 di forza rispetto al Toti che ha 95, non si verifica un alleggerimento, tra virgolette, del giocatore nelle sue prestazioni palla al piede e con i micromovimenti. Io mi aspettavo fosse molto più responsivo questo qui, ma invece questo non accade. Anzi, mi sembra alle volte anche un po' più impacciato rispetto alla versione Toti, quindi quello che era il mio più grande auspicio purtroppo non si è verificato. Stesso discorso qui per quanto riguarda il body type, perché chi nasce tondo non muore quadrato. Se voi potete prendere anche un giocatore di 2,10 mettevi 99 di agilità, 99 di reattività, 99 di equilibrio, zero di forza, non ce n'è il giocatore. Quello in game ha un determinato tipo di modello 3D che non gli permette di fare determinate cose, quindi purtroppo questo Ronaldo, anche come avete visto dalle clip, risulta anche un po' limitato nei micromovimenti. E in area di rigore questo è ovviamente un qualcosa che si fa sentire. Quindi questo per quanto riguarda il confronto ben bene nel dettaglio. Qual è il mio consiglio a questo punto? Sinceramente, avendo i crediti e potendo scegliere, io non mi andrei a giocare le mie carte sul foot birthday, perché praticamente costano uguale. Lui è il Toti e il compromesso di avere quel 5 di piede debole rispetto a un 4 di Ronaldo, che però è un 4,5, secondo me non ne vale la pena a fronte comunque di una maggiore rapidità, che è il problema più grosso di Ronaldo di quest'anno, e ha anche una maggiore costanza nella finalizzazione. Inoltre poi ci tengo a ricordarvi anche un altro elemento fondamentale, ovvero che Cristiano Ronaldo comunque è un giocatore che si sposa bene per un determinato stile di gioco, ovvero soprattutto se siete magari contropiedisti e vi piace lanciare il giocatore in profondità, oppure se siete abili a isolare per bene la punta nell'1v1 e quindi giocarvi poi la skill che vi permette di liberarvi e calciare in porta, o anche in un attacco a due con un giocatore un po' più agilotto, e quindi questo Ronaldo può beneficiare, diciamo, della presenza di un giocatore un po' più pericoloso nello stretto per potersi poi scatenare. Ovviamente con questo non vi sto dicendo che il Ronaldo nella sua versione footbird day sia scarso, semplicemente vi sto dicendo che considerando il prezzo e considerando tutte quelle che sono delle migliorie che questa carta doveva avere a fronte della versione Toti, diciamo che i pro vanno assolutamente a essere inferiori ai contro, e quindi il mio consiglio va sempre sulla versione 97. Dunque, anche per questo video è tutto, raga fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se avete provato una delle due versioni o entrambe, quale avete preferito, in descrizione trovate tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno, a me non resta altro che augurare una buona giornata, Anzatone Liberoschi, ciao!